Forza ragazzi, andiamo! Oggi è il 2 gennaio 2020, Alta Abbadia, Val di Mesdi, le Dolomiti, bellissime, qui due grandi sciatori, Flavio e Angelo Vaccaro, la promessa dello sci mondiale. Angelo, fai vedere come metti gli attacchi, Angelo, non mi fa fare brutta figura, per favore. Come inserisci lo scarpone nell'attacco? No, non taglio niente, a me piace fare tutte le cose così in presa diretta. Ok! Ah, ce l'ho io, però è troppo complicato, se vuoi. Se lo potete fare voi, io non ho tempo. Ok, va bene. Poi ti do la sim card con tutti i video sopra e ci pensi tu. Li tagli e poi li carichiamo. Ok? Per là c'è i video vivi di tempi morti. Eh, lo so, lo so, ma infatti io questo lo so, ma non ho tempo di farlo. e lo so, ma io non sono uno youtuber, io faccio un altro lavoro. Questo è solo un cazzeggio. Chiudiamo gli scarponi. Eccolo qua. Eccolo qua. Wuhuu! Eccolo qua. Eccolo qua. Eccolo qua. Eccolo qua. Eccolo qua. Non ti viene naturale. Non ti viene naturale? Non ti viene naturale. Quella la pall del msd. Teatro delle mie avventure. Quando ero giovane. Grazie. Eccolo qua. Grazie, amore mio. oggi scio con lo sci stocli laser vrt del grande grigio amico mio grigio speriamo di essere all'altezza della situazione vai angelo fammi vedere i tuoi curvoni a fuoco vai andiamo ragazzi piano piano dai eccoci no perché lei aspetta tommaso hai visto aspetta tommasuccio perché tommasino da solo se no si spaventa vai fai vedere un po di progressi forza grande guarda ormai la curva sci paralleli è roba tua la domini perfettamente questa curva sci paralleli bravissimo tiene le braccia alla stessa distanza bravo un po più elegante forza curiamo l'estetica forza vai vuoi fare un saluto a ludovica ecco un saluto a ludovica fa andiamo all'impianto eh alla cabinovia cabinovia angelo 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 ecco un saluto a chi non ci sono citato a interrompere No, 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 no. No, 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 no Ma non penso che sia il futuro